Nascite, varie nascite, da che era bambina, adolescente, quindi Sanremo, fine anni 60, ma che freddo fa, poi una seconda nascita artistica negli anni 70 con Piero Ciampi, che scrive per lei, Piero Ciampi è stato uno dei più grandi cantautori italiani, un grande poeta innanzitutto, l'impoeta livornese, cantautore maledetto, e ha una seconda nascita artistica, anzi forse la prima vera nascita, nel senso che fa delle cose che le piacciono davvero, scopre un modo di fare musica e di fare scrittura, di lavorare con le parole e sulle parole, più vero, e questa è la seconda. Poi nei primi anni 80, metà anni 80, di nuovo un successo commerciale pazzesco, con Amore Disperato, che tutti noi abbiamo cantato e ballato, e poi dagli anni 90 un'ulteriore rinascita musicale, e nada, è veramente una sorta di... Ma quanto ne ho fatti? Ma hai visto? Di regina del rock indipendente italiano, e non solo italiano, ha collaborato con artisti straordinari, produttori come John Parrish, cioè il produttore di P.J. Harvey, e con tutti i migliori musicisti della scena indipendente italiana, a partire da CCCP, fino all'Izen Circus più recentemente, adesso in Turco con le Toys Orchestra, e poi c'è un'ulteriore nascita che è quella di... A parte, non ho parlato del teatro, ecco, ma no, ma veramente... E in più la nascita, diciamo, letteraria. Sono stanca già a sentire tutte queste cose, ma per me... E siamo arrivati al quarto libro. Sì, al quarto libro, sì, in effetti, no, prima voglio salutarvi tutti e dire che sono veramente felice di essere qui, davvero. Tutto quello che ha detto Simone è perfettamente così, perché ci conosciamo, scusate, sono un po' giù di voce, perché in questo periodo sto girando un po' tutta l'Italia e quindi sono in tour e quindi le aree condizionate, il freddo, il caldo, in più un po' di fatica, insomma, io non ho mai problemi, con la voce lo dicevamo ieri in macchina e stamattina mi sono svegliata così. Però, vabbè, un po', no? È anche particolare, potrei incidere subito un pezzo così. No, dicevo tutto quello che lui ha detto di Pennabilli, di cose, ne abbiamo parlato in questi anni, tante volte, quando ci incontravamo, anche perché Pennabilli ha questo nome un po' particolare, che incuriosisce, no? Fa immaginare un paese, non so, di cowboy, di indiani, di rock, di musica, una cosa così. E quindi io passavo sempre da sotto, dicevo prima o poi ci vado, prima o poi c'era sempre qualcosa, eravamo in ritardo, dovevamo raggiungere un altro posto e quindi mi fermavo sempre a un forno che c'è qua nell'angolo che voi conoscerete, prendevo il pane o il ciambellone e tornavo a casa. Poi, vabbè, con Simone nel tempo, insomma, lui mi raccontava che veniva a passare l'estate, veniva a trovare i suoi genitori qua e adesso, niente, è uscito questo libro per Simone, che è la sua nuova casa. Adesso lui ha raccontato un po' la mia storia, io racconto un po' anche la sua. Allora, innanzitutto, se io scrivo, e se è un bene o un male, questo non lo so, dovete dirlo voi, diciamo che è merito, l'ho già detto, ma qui merita dirlo, perché l'ho detto tante volte, ma voi non lo sapete. Se io scrivo è merito di Simone, perché io probabilmente era una cosa che desideravo farla, l'ho capito, che avevo dentro, ma siccome appunto la mia storia, come ha raccontato lui, è un po' strano, ho cominciato da piccolo, ho fatto tante cose, al di là della mia volontà, mi sta tornando la voce, vedi? E lo zenzero. Al di là della volontà, al di là delle cose che uno si trova nella vita e non sai neanche perché, insomma, una cosa la fai perché la devi fare, una perché ti piace, una perché ti arriva, insomma, la vita è un po' anche così. E insomma, Simone un giorno mi ha invitato a leggere un autore che lui, insomma, dove lavorava, nella sua casa editrice, che era, si può dire, no? La Fazzi, a leggere questo autore, che era un autore stranissimo, americano, insomma, in un festival molto importante a Roma. E io mi sono un po' meravigliata perché era una cosa, appunto, che non mi era mai capitata, però io sono molto curiosa, davvero, e mi piace fare cose, cioè, ci provo, ce la metto tutta, poi a volte vengono bene, a volte non vengono bene, però so, sono andata di corsa, e così ci siamo conosciuti, e poi ci sono, no? Che tra le persone si crea anche un'empatia proprio subito, dall'inizio, non si sa perché, con alcune sì, con alcune no, con Simone si è creata, e lui mi ha detto subito, ma tu, io ti seguo anche, perché ero un appassionato anche di musica, ti seguo come cantante, queste ultime cose che stai facendo, io avevo cominciato a scrivere le mie canzoni, i miei dischi, i miei testi, dopo l'incontro con Ciampi, ma quella è anche un'altra storia, che sennò non c'è la partita, e insomma, dice, mi piacerebbe che tu scrivessi qualcosa, perché penso che, dietro queste cose che scrivi, io credo che ci sia dell'altro, che tu hai qualcosa di altro da dire, io sono rimasta un po' così, e ho pensato, ma no, ma scrivono tutti, poi una cantante che scrive, oddio già, ci sono pregiudizi quando tu fai una cosa leggermente diversa, tutti dicono, perché fai questa cosa, come mai, come se fosse qualcosa di, che facessi qualcosa di chissà che, un delitto, qualcosa di, cioè, invece dovrebbe essere, anzi, secondo me, una cosa bella, no, qualcuno che aggiunge, che prova, che cerca, che rischia, e che lo fa veramente perché ci crede, però, insomma, la scrittura era una cosa un po' lontana, devo dire, e poi io ho sempre letto molto, dico, ho sempre, perché adesso, purtroppo, il tempo è sempre meno, uno la sera è sempre più stanco, e poi prendi il libro e ti addormenti, però, insomma, continuo a farlo, chiaramente, però quando ero piccola, io sono stata una grande lettrice, perché per me era una cosa importante, anche nel primo libro che abbiamo fatto, no, le mie madri, c'era quel raccontino, la soluzione, che adesso, purtroppo, non ce l'ho, perché lì vi avrebbe dato proprio l'idea, di come io, appunto, ho sempre avuto questa passione della scrittura e della lettura, e allora, insomma, ci ho pensato un po', perché ci siamo risentiti, e alla fine gli ho detto, guarda, io ci provo, perché sentivo qualcosa che lui proprio lo sentiva veramente, ed era una cosa detta da una persona che sentivo che sapeva quello che stava dicendo, non era il solito che incontra una persona così conosciuta, diciamo, come me, che faccio, appunto, la cantante che gli dice, facciamo questa cosa così, sfruttiamo il fatto che già ti conoscono, per cui, no, queste cose che io ho sempre odiato, che mi sono sempre trovata intorno, e che non ho mai, ho sempre allontanato, questo, sentivo che non era quello, che non veniva da quella cosa lì, e allora, un giorno, se ti ricordi, ti ho detto, Simone, guarda, io ci provo, però comincio a scrivere, però devi essere d'accordo con me, se tu capisci che è una cosa che proprio non sta né in cielo né in terra, e che anch'io sento, perché lo sento anch'io, però, così basta, come non fatto, no? E così io ho cominciato a scrivere, ho cominciato a scrivere, è stata una cosa meravigliosa, io scrivevo, scrivevo, mi ricordo abitavo a Roma in quel periodo, avevo un piccolo tavolino in un angolo di questa salotto che avevo, e stavo sempre lì, e la mia mamma, allora c'avevo ancora la mia mamma, mi diceva, ma che stai facendo? Ma insomma, ma vai a cantare? Io scrivevo, scrivevo, mi era venuta proprio questa cosa, perché sentivo che veramente mi venivano cose che mi sembravano giuste, che mi sembravano che avessero un senso, e così poi quando ho avuto tutti questi fogli scritti, questi tanti racconti ci siamo incontrati, giustamente lui ne ha tolti un po', perché probabilmente, insomma, per dire che io ho cominciato così, grazie veramente a Simone, non posso che essere sempre veramente riconoscente di questo, perché al di là, diciamo, del risultato, sì che è importante perché uno fa una cosa e ci tiene, no? E quindi al riscontro con gli altri, altrimenti me lo terrei in casa, no? Però al di là di questo è stato importante proprio per me, proprio per me, per me, perché così mi ha fatto conoscere un po' meglio, io, mezzo me stessa, e poi, insomma, ho scoperto la bellezza di ritrovare tante cose scrivendo, ti vengono alla mente tante cose che hai visto, che hai vissuto, che non ti ricordavi più, che non pensavi più, e che mettendoti lì a scrivere riesci a vederle in un altro modo, no? Hai un momento di riflessione che è diversa dal ricordo veloce, o dal parlare, o dal leggere una cosa, e poi ne fai un'altra, e poi ne fai un'altra, no? Invece scrivere ti costringe, no? A stare lì con questa pagina, e con te stessa, e quindi ogni cosa, cioè, veramente ti si presenta in un modo che va al di là di quello che pensavi, no? E ne scopri sempre un'altra, sempre un'altra, e quindi, diciamo, per me è stata veramente una bella scoperta, anzi direi, o non voglio così dire, grande scoperta, che sembra una cosa, però davvero, davvero, davvero è così. E quindi ho fatto il primo libro, che erano racconti, piccoli racconti, così come mi aveva consigliato Simone, e poi c'erano, diciamo, delle riflessioni, delle poesie, poesie, poi ho fatto un altro libro, che è Il mio cuore umano, che era, però era, sì, diciamo un romanzo, però raccontava un po', diciamo, quello che era la mia infanzia, ecco come mi racconti tu qua, di Pennabilli, come io posso immaginare, in un paese così, le storie, perché anch'io sono nata, in un paesino vicino Livorno, dove insomma, poi nei paesi, le storie, i luoghi sono diversi, ma poi le storie, poi insomma, hanno una radice comune, no? Le piccole comunità, l'amicizia, la solidarietà, insomma, le radici sono importanti, e quindi, quello è stata, però parlavo sempre, un po', diciamo, di quello che in qualche maniera mi apparteneva, poi ho fatto la grande casa, lì è stato un altro piccolo salto, con questa storia, che comunque dentro c'era sempre un po', un po' di me, perché in questa grande casa, adesso non vi sto a raccontare la storia di quel romanzo, però, diciamo, in questa grande casa, era un luogo dove, dove arrivavano persone, diciamo, che avevano bisogno di, un po' di curarsi l'anima, e quindi, in questo luogo, io ci aveva fatto arrivare una cantante, e quindi, in qualche maniera, un po' di me gli avevo dato, perché, insomma, per me era, staccarmi un po' anche da quello che io conosco, insomma, avevo un po' paura, no, di non riuscire, arrivare poi fino in fondo, mentre, con questo libro, qui, invece, veramente, è stata come, diciamo, una scommessa anche con me stessa, ti ricordi quando all'inizio scrivevo, che ne parlavamo, e, perché è una storia che non, non mi appartiene, cioè, diciamo, come si può dire, inventata, una storia che, che non è la mia, anche se, chiaramente, io poi, scrivendola, in molte situazioni, mi sono immedesimata, ma come, come sentimenti, come emozioni, ma non come, come storia proprio, e quindi, per me è stato, diciamo, come dire, un prendere anche un pochino più fiducia, no? E un po' anche superare, diciamo, un po', quando vedi, che il pregiudizio, che è un po' troppo, che magari qualcuno dice, ma tu scrivi, ma tu canti, così, eccetera, allora, scrivendo Leonida, mi sono sentita un po' più forte, di affrontare anche, che capisco, che è normale, tante volte, è capitato anche a me, probabilmente, però, insomma, diciamo, poi le cose, io ho sempre pensato, che poi le cose, quando ci sono, esistono veramente, no? Superano qualsiasi cosa, ci vuole un po' di tempo, bisogna avere pazienza, fiducia, tenere duro, e poi, se le cose ci sono, in qualche maniera, arrivano, e tutto questo, per dire che, appunto, io ho scritto, tutti, per me sono tanti, questi quattro libri, appunto, sempre, avendo vicino, Simone, col quale, mi sono sempre, confrontata, consigliata, rapportata, cioè, lui, praticamente, è il mio editor, oltre, poi, in questo caso, anche editore, perché, ha fatto, poi, ne parlerai tu, insomma, meglio, anche perché io, fatico un po', adesso ti passo, però, diciamo che, lui, fino adesso, e credo, e credo sempre, perché io, poi, quando trovo qualcuno, di cui mi sento, proprio, che ho fiducia, che mi sento, che mi posso affidare, è fondamentale, specialmente, nel mio lavoro, dove sei circondata, sempre da persone, che non capisci mai, qual è la vera ragione, se veramente, ti vogliono bene, se veramente, pensano quello che dicono, se veramente, insomma, io, in tutti questi anni, uno, di un lavoro, che io faccio, è proprio cercare, di riconoscere, di allontanare, tutti questi, che vogliono, insomma, un po', no? E quindi, trovare una persona, così, a cui ti senti, proprio, di affidare te stessa, e le cose, che pensi, che scrivi, che sono importanti, perché, la lettura, la scrittura, è una cosa, i libri, sono una cosa, per noi, importantissima, per le persone, a volte, non ce ne rendiamo conto, o anzi, sì, sono degli amici, proprio, della vita, sono cose, che ci tramandiamo, per conoscerci meglio, che ci aiutano, a vivere, no? E quindi, io, insomma, Simone, è stato, in tutti questi, in tutto questo percorso, fino a qui, è stato il mio editor, e, in questa occasione, anche editore, e adesso, un po' per riposarmi, con questa voce, un po' da orco, faccio parlare un attimo, Simone.